Questa la sponsorizza Antonio Bassolino dalla sua frutcheria. La persona indica che Bassolino è sempre stante zappatore, senza niente togliere gli zappatori. Questa insalata va nella vita di una persona. Ogni giorno, sulle tavole di Napoli e Campania, Campania tutta, e anche partire del Basso Lazio, dove la camorra in combutta con i sindaci dei comuni hanno permesso che questa insalata possa andare sulle tavole. Questa insalata non lo sappiamo da cosa è composta, non l'abbiamo analizzata. Ma non serve analizzata, possiamo dirlo con sicurezza. C'è il caldino, ci sono pernici pesanti. Mi sento curato. Mi sento anche la puzza. Peggio di questo non c'è. E non lo sappiamo oggi che abbiamo lanciato questo corteo, perché oggi noi siamo un fiume in piena. Noi lo sappiamo dal 1990 che le canche amorristici in combutta con i sindaci di tutte le città, di Campania e del Basso Lazio, hanno permesso che ogni giorno i nostri figli e i vostri figli, le nostre moglie, i nostri cari, potessero morire di tumore mangiando questi animali. Speriamo che da oggi cambia qualcosa. Questo deve essere solamente un grande punto d'inizio. Ci saranno più di 50.000, 60.000, 60.000 persone in piazza. Da qui, da oggi, si deve costruire un nuovo percorso per dire no agli inceneritori, per uno smaltimento virtuoso di rifiuti, per la raccolta differenziata porta a porta. E chi dice che siamo in civili non è vero, perché Scampia e l'area nord di Marano e l'area nord di Napoli hanno un 80% di raccolta differenziata rispetto a questi quartieri qua, Chiaia e il Vomero, che invece li hanno solo il 20%. Ok, grazie. Buongiorno.